Allora Leo, innanzitutto ti volevo chiedere come è nato il tuo desiderio di partecipare ai provini per interpretare Califano? Cosa ti ha spinto a voler essere un'icona della romanità e della musica italiana? Wow, che domanda! Ma guarda, allora in realtà la verità è che semplicemente era un grande ruolo da interpretare, era comunque un cantautore che ha scritto una pagina della musica italiana e romana soprattutto. Io faccio il cantautore e per me sarebbe stato un grande onore poterlo rappresentare e raccontare. Sono romano, quindi insomma diciamo c'erano degli elementi che comunque mi facevano pensare di poter essere all'altezza. Poi insomma i provini sono stati molto lunghi, ce ne sono stati vari e poi alla fine è arrivata la bella notizia, quindi sono contento che le cose siano andate bene. Eri più timoroso nell'affrontare le scene con i dialoghi oppure nelle interpretazioni delle canzoni di Franco? Beh sicuramente forse alle canzoni, perché le canzoni sono state la prima parte in realtà, ho registrato le canzoni prima di girare il film, quindi sicuramente è stato sia il primo approccio, dove comunque dovevo trovare un modo per raccontare Franco e non utilizzare ovviamente la voce di Leo, ma quella di Franco e quindi comunque inizialmente trovare una quadra è stato, non dico complicato, però comunque insomma ci ha voluto del lavoro. Però è stato stimolante in entrambi i casi, quindi poi alla fine la paura è passata e una volta che abbiamo trovato la quadra giusta le cose poi sono andate lisce. Ora che lo hai interpretato hai capito perché le canzoni, soprattutto le parole di Franco, hanno toccato così tanto il cuore delle persone? Perché erano sincere, erano sincere, raccontavano, raccontavano, diciamo, facevano un riassunto e sintetizzavano la vita che lui aveva intorno a lui, aveva una grande capacità di sintesi Franco e soprattutto aveva vissuto tanto, aveva vissuto in tanti ambienti diversi e questo lo portava, essendo lui un osservatore, a raccontare le cose che viveva in una maniera molto diretta, senza peli sulla lingua, senza, diciamo, giri di parole e questo fa bene, ma in realtà è una legge universale questa nella musica, secondo me. quando una canzone è diretta e sincera e arriva all'osso della questione e le persone poi empatizzano e se le ricordano per tutta la vita. Ci sono tanti esempi di grandi attori anche a livello internazionale, penso a Jared Leto, che alternano benissimo la musica con il cinema. tu vuoi arrivare a quel punto lì, vuoi alternarli bene o c'è ancora una strada ben definita che preferisci percorrere? No, no, assolutamente no, voglio assolutamente farle entrambe perché insomma sono due percorsi che possono convivere tra di loro e poi soprattutto due percorsi molto diversi perché poi quando sono un cantautore sono in un modo, quando insomma sono un attore sono in un altro, racconto soprattutto storie che non sono le mie, quindi perché no, perché no, io mi diverto moltissimo, mi emoziono e cercherò sempre di raccontare storie che mi piace raccontare, nel senso vorrei concedermi, concedere a me stesso questo piccolo lusso di poter insomma selezionare le storie che voglio raccontare senza avere la foca di fare tante cose, nel senso vorrei avere la possibilità di scegliere io i provini e i film e le storie da raccontare. Papà ha raccontato in un'intervista come andavi spesso a teatro, vivevi nel mito di nonno insomma ecco, cosa pensi di aver preso da loro, insomma, dal loro modo di visitare? Beh, sai, ogni attore è molto diverso, nonno e papà hanno fatto e hanno scritto delle pagine del cinema, nonno prima, papà dopo, io sono Leo, nel senso che anche quando faccio musica in realtà credo di avere una mia identità, però sono il primo fan di nonno e di papà gli apprezzo, gli ammiro per quello che fanno, papà secondo me è diventato un grandissimo attore racconta delle storie bellissime e mi fa emozionare ogni volta che lo vedo quindi lo stimo molto, lo vedo come un esempio, insomma, sono molto onorato di far parte della mia famiglia, anche mia mamma in realtà è una grandissima attrice, è di teatro, ovviamente senza di loro non sarei quello che sono oggi, quindi un grande grazie a mamma, papà, nonno a tutti gli avi. Ci vediamo a Sanremo? Sì, sì, ci vediamo a Sanremo. Grazie.